40 sacchi di rifiuti divisi tra indifferenziato plastica e vetro, un tavolino da bar, un lucido a scarpe, due tappeti, tettoie e il telaio di una bicicletta. Questo è il risultato della giornata Plastic Free organizzata dal WWF in collaborazione con Cardor sulle spiagge di Fregene. L'evento è stato patrocinato dalla Maccarese S.P.A. e dall'Associazione Villaggio dei Pescatori, grazie anche alla collaborazione del Comune di Fiumicino. Una vera e propria invasione pacifica per liberare gli arenili dall'immondizia. L'iniziativa fa parte della campagna Generazione Mare. Quest'anno, ha dichiarato Gaetano Benedetto, direttore generale WWF Italia, ci siamo posti un obiettivo ambizioso a livello globale, liberare dalla plastica l'ambiente naturale a partire da quello marino entro il 2030. Per farlo dobbiamo mettere in campo tutte le risorse, non solo coinvolgere quante più persone possibile, ma anche spingere i governi a cambiare le normative per eliminare il monouso e stimolare le industrie verso scelte innovative nelle filiere produttive. La plastica è invaso ogni angolo del pianeta, ormai nemmeno gli abissi degli oceani ne sono liberi. Abbiamo bisogno di una rivoluzione etica, di scelte che partono dalla consapevolezza dell'urgenza e dell'importanza di ogni piccolo gesto, ha concluso Benedetto.